ciao simone grazie della tua disponibilità benvenuti su bin sapiens in questo secondo dialogo in questo nuovo filone che si occupa di riflettere insieme con psicoterapeuti italiani e bando alle ciance direi di partire subito con la prima domanda ci puoi introdurre le caratteristiche specifiche del tuo modo di lavorare come psicoterapeuta e dei tuoi modelli di riferimento provo ad essere un po sintetico perché ci perdiamo nei meandri no allora diciamo mi verrebbero due due risposte una pratica una più generale partirei da quella pratica cioè io ho nella mia esperienza clinica o quello che ho sperimentato e poi poi proverò motivarla anche secondo me torna dal punto di vista empirico è centrale e condividere fare una maniera condivisa col paziente una concettualizzazione del suo funzionamento nei miei termini questo è in qualche modo cioè come dire la prepista dell'intervento e l'inizio stesso dell'intervento perché poi come appunto poi provo un po motivare cerco di fare questo in un'ottica evoluzionistica e nei miei termini significa soprattutto aiutare la persona a distinguere tre diciamo tre aree di questo funzionamento che sono uno è un po quella che possiamo definire l'organizzazione base di personalità l'altro un po le strategie di adattamento che hanno funzionato non funzionato infine una struttura risultante che a volte molto spesso il motivo per cui le persone accettano ai percorsi è maladattiva e quindi genera sofferenza che poi noi clinici con le nostre parolacce chiamiamo disturbo qui disturbo là eccetera questa distinzione come dicevo affonda un po background teorico che è quello della biologia teorica nel senso di distinzione tra organizzazione struttura cioè organizzazione come quell'insieme di caratteristiche che nella loro relazione definiscono un sistema rispetto a un altro mentre la struttura è un po l'embodiment no cioè la manifestazione incarnata di quella organizzazione faccio sempre l'esempio della sedia no cioè se tolgo lo schienale alla sedia non è più una sedia no mi diventa uno sgavello quindi la relazione che sussiste tra le varie componenti tra cui lo schienale mi dice che quella è una sedia rossa verde di metallo ecco la manifestazione specifica è la struttura questo insieme di relazioni di componenti significati è l'organizzazione questa distinzione nei miei termini è fondamentale perché vuole favorire un atteggiamento destigmatizzante nel lavoro clinico nel senso che il mio obiettivo primario nelle fasi iniziale della terapia aiutare la persona a riconoscere che ci sono questi aspetti base di funzionamento che non sono né giusti né sbagliati e che non è che la persona è rotta e viene da noi per essere aggiustata la persona ha delle caratteristiche che noi vogliamo conoscere e valorizzare però per storia di vita caratteristiche personali mille variabili poi ha sviluppato delle strategie che magari in alcuni contesti hanno funzionato ma poi si sono un po' rigidite fino a generare sofferenza quindi difficoltà di adattamento e a volte addirittura strutturandosi in dei pattern meccanismi processi come ci pare che generano tanta tanta sofferenza che è poi quello su cui spesso noi da clinici ci concentriamo sopra in maniera un po' esclusiva quindi nei miei termini è fondamentale distinguere questo ripeto perché ci credo anche dal punto di vista teorico e sperimentale cioè non ci sono le personalità sane le personalità patologiche in base alle nostre caratteristiche noi a seconda le determinate condizioni di vita possiamo manifestare forme di risposta ma di gestione dello stress che risultano maladattive tanto più queste strategie si irrigidiscono tanto più poi arriviamo a quella che è la forma più conclamata di psicopatologia che sono appunto i perdurare in maniera ricorrente il paziente ha la sensazione che più mi muovo e più come in un incubo surrealista più mi muovo più torno allo stesso punto di partenza quindi questo dal mio punto di vista no poi la cosa fondamentale perché se riesco a costruire un paziente questo poi possiamo usare tutte le tecniche del mondo autobiografiche narrative esperienziali relazionali eccetera e questa teoria nei miei termini affonda le radici primariamente nella prospettiva evoluzionistica cioè di psicologia e psicopatologia evoluzionistica dove appunto il focus è alla luce del funzionamento dei tratti stabili della persona e dell'ambiente in quale quella persona si muove come la persona prova ad adattarsi dove le strategie automatiche non funzionano e perché come si sono irrigidite fino al punto di arrivare appunto a una struttura maladattiva e quella poi magari chiamiamo magari disturbo di personalità ad esempio quindi l'altra componente pratica che per me poi è fondamentale è l'uso della relazione terapeutica nel senso che io alla fine della prima seduta dopo in fase di assessment dico spiego proprio al paziente il mio punto di vista che magari non gli va bene quindi fa bene a trovarsi un altro terapeuta cioè che la psicoterapia nei miei termini è una sorta di palestra quindi appunto non siamo qui a cambiare la persona stiamo qua a sviluppare strategie adattive e a gestire quelle che a volte risultano maladattive e quindi come tutti gli allenamenti richiede del tempo e lo strumento fondamentale che usiamo in questa palestra è la relazione terapeutica perché come spiega ai pazienti e come torna anche credo nell'esperienza clinica ciò che il paziente ci racconta su ciò che avviene fuori comunque è sempre immediato da la propria storia dal proprio stile narrativo quello che succede in seduta invece ci possiamo lavorare direttamente quindi è un eccellente esercizio ovviamente non basta quello però è un eccellente strumento di allenamento per così dire quindi questo diciamo prima risposta poi non se vuoi posso addentrarmi nel background teorico però ecco volevo dare tanto una risposta certo ma molto interessante quindi se ho capito cercando di radicarsi con quelle che sono le attuali conoscenze di psicologia evoluzionistica di teoria dell'attaccamento anche le conoscenze di neuroscienze che abbiamo acquisito negli ultimi 20 30 anni cioè tu individui se ho capito una struttura di base che è di specie cioè l'essere umano ha nel suo sviluppo cognitivo emotivo relazionale quant'altro ha determinati percorsi determinate tendenze tu poi vai a individuare dove o perché c'è stato un trauma che oggi se ne parla tanto o perché semplicemente che semplice non è c'è stata una certa interpretazione del comportamento più o meno funzionale della madre o del padre o comunque della persona significativa che ha nell'attaccamento e tu li individui delle rigidità delle strategie che a breve termine sono state salva vita ma che alla lunga poi sono diventate da armatura gabbia se vuoi ti faccio un esempio su un caso clinico che poi se vuoi vi giro anche il link perché è un preprint per cui è open access cioè ad esempio questa paziente è una paziente che ha in fase di diagnosi appunto vediamo come le diagnosi categoriali nei miei termini fanno un po' acqua nel senso che lei soddisfaceva pienamente i criteri per la diagnosi disturbo borne della personalità disturbo ossessivo compulsivo della personalità e anoressia nell'indagare la storia di vita viene fuori che lei è sempre stata una bambina molto come dire da un lato sempre vissuta le emozioni negative intensamente quindi anche con l'ansia la preoccupazione no il timore rispetto al mondo che questo può generare dall'altro ha sempre avuto una quindi una buona capacità di autoregolarsi nel perseguire gli obiettivi quindi anche termini più cognitivi una bassa la parolaccia inglese reward sensitivity cioè no quindi nel senso ho una bassa sensibilità nei confronti della ricompensa cioè riesco a posticipare la ricompensa vuoi affini collaborativi vuoi perché mi do un obiettivo se usiamo un linguaggio della psicologia di personalità non patologica quindi parliamo di tratti di neuroticismo coscienziosità e simili dall'altro però lei poi vediamo l'ambiente ecologico non la nicchia ecologica che è nata è nata un ambiente fortemente abusante con nel caso appunto descrivo episodi proprio di violenza fisica molto molto intensa ben oltre ben oltre i limiti clinici da parte del padre e quindi un ambiente caratterizzato dall'egginect emotivo e anche forme di abuso tutto questo ha fatto sì che lei perché nei miei termini i sintomi non sono l'indicazione che il paziente è pazzo ma come diceva Donald Lang il sintomo è l'ultimo anche quello più grave come le psicosi l'ultimo tentativo del paziente di tenere assieme una visione di se stessa e del mondo e cose tipo come nel suo caso sviluppare strategie fortemente ipercontrollanti e autocritiche era funzionale se vive un ambiente dove tutte le volte mio padre torna a casa arrabbiato o ubriaco mi mena e mi mena in malo modo io devo diventare ipervigile no sui miei vissuti per non attivarlo iperregolarmi eccetera quindi lei cosa ha fatto piano piano ha sempre più investito in queste strategie inibitorie rispetto ai suoi bisogni rispetto ai suoi vissuti e dall'altro ha costruito delle motivazioni sociali fortemente pro sociali no perché io non solo non posso concentrarmi su di me ma se l'altro è abusante devo anche essere molto attenta all'altro no progressivamente questa cosa ha fatto sì rigidendosi sempre più che lei arrivasse ad avere forme gravi e pervasive di autocritica perfezionismo il controllo eccetera e manifestando appunto poi una struttura di personalità se usiamo le impd data da affettività negativa e basso di disinibizione se usiamo l'icd 11 affettività negativa e anacastia ok e in questo senso no poi possiamo comprendere quella apparente inconciliabilità tra le agnosi di disturbo border di disturbo ossessivo di personalità perché appunto c'è questo aspetto centrale quindi in questo senso il lavoro che io ho fatto con lei è stato di farle riconoscere questa sua sensibilità emotiva ma anche questa sua attenzione all'altro come qualcosa da tutelare valorizzare e proteggere non da buttare via no mentre queste meccanismi iper regolanti scusami la parola e quindi autocritica perfezionismo eccetera questo imparare a gestirle perché una delle strategie che lei aveva era negarsi ad esempio il cibo vedi l'anoressia per punirsi preventivamente per far bene le cose no per essere guardata nel mondo ok quindi in questo senso il lavoro clinico nei miei termini deve aiutare il paziente a riconoscere questi tratti di base questa che io chiamo organizzazione di base di personalità che non è patologica ok cioè la sua coscienziosità la sua attenzione all'altro non è una roba brutta anche da valorizzare però bilanciata con la capacità di prendersi cura di sé dei suoi vissuti e i suoi bisogni fino appunto da sviluppare una cosa che lei mancava quando arrivata in terapia aveva un livello adeguato di agency appunto da poi sviluppare delle strategie intra interpersonali di senso nel perseguire questi obiettivi molto interessante poi su questo magari con anche con le altre le stimoli delle altre domande torneremo su questo rapporto tra come la diagnosi può essere d'aiuto può essere un ostacolo poi nella operatività clinica prima di passare la seconda domanda proprio una cosa veloce veloce quindi se dovessi fare un elenco di alcuni nomi di autori o modelli a cui tu poi nella tua pratica clinica ti fai principalmente sono tanti diciamo parto da parto dall'origine dicendo alcuni fondamentali per me uno degli autori fondamentali che proprio mi ha aperto il mondo è stato eric stax allivan cioè l'idea di ribaltare il discorso che noi non è che siamo individui che entriamo in una società ma è il contrario noi nasciamo immersi in quel mare sociale che la vita umana e la personalità un processo di individuazione non l'opposto e poi sicuramente mi ha fortemente influenzato sempre stando sul passato poi arrivo al presente George Alexander Kelly e quindi la prospettiva costruttivista perché diciamo uno assieme a Sullivan uno dei grandi autori che nei miei termini hanno un po' superato questa visione sintomatologica e nei miei termini stigmatizzanti nei confronti della diagnosi della sofferenza umana eccetera Kelly quindi cioè vedere anche il sintomo come scelta questo l'intuizione di Kelly è per me almeno è stata fondamentale e poi cioè diciamo facendo un salto no un po' più recente le prospettive interpersonale vedi Jeremy Safran più recenti così come i più diciamo i moderni approcci un po' più integrati pensiamo anche a approcci italiani come la terapia anche metacognitiva interpersonale o la mentalization based treatment eccetera hanno sicuramente sono stati grande spunto così come appunto il lavoro credo sia facilmente intuibile di Paul Gilbert e della compassion focus therapy perché l'idea anche lì la distinzione tra sicurezza safety in inglese come assenza di minaccia e safeness come assenza di minaccia però in una condizione anche in cui io posso recuperare energie e stare in termini di connessione sociale quella secondo me è fondamentale da un punto di vista più teorico diciamo in ambito evoluzionistico il lavoro di Robin Dunbar e Martin Brune è stato per me cioè diciamo è su loro che ho studiato grazie a loro ho studiato l'evoluzionismo e diciamo più che singoli autori come movimento i recenti approcci alle prospettive dimensionali e gerarchiche alla psicopatologia per quanto abbiano numerosi critiche anche di senso e debolezza eccetera però secondo me pensare il problema clinico in termini dimensionali mi aiuta molto faccio parte di HITOP che è gerarchica caltaxonoma psicopatologico che è un consorzio di ricercatori che si occupano di questa cioè io porto più la prospettiva del clinico la gran parte sono ricercatori sperimentali però diciamo è un mi non credo c'è un famoso articolo di hot food che dice che in psicologia abbiamo un programma enorme cioè che gli esperti di psicologia della personalità e di psicologia clinica parlano delle stesse cose ma usano linguaggi diversi e non si parlano questo gap secondo me andrebbe un po' un po' colmato ecco nel mio piccolo insomma cerco di dare un contributo molto interessante eh sì questo discorso della transdisciplinarità è imprescindibile in tantissimi campi e in quelle zone di in quelle terre di mezzo per usare un linguaggio alla tolkien che eh penso si vedono e e anche quello che accennava è molto interessante del che poi si collega al fattore trasversale in tutti gli approcci terapeutici della sicurezza all'interno della relazione terapeutica no da Volpi a Gilbert a Liotti a tantissimi altri è presupposto assolutamente ok passiamo alla seconda domanda dai quali sono a tuo parere i più interessanti e promettenti sviluppi nella teoria e nella prassi della psicoterapia diciamo vado un po' a ruota su quello che dissevo prima nel senso che ehm io riconosco diciamo almeno tre macro filoni eh un filone è quello interpersonale che eh va da Safran fino al eh più recenti articoli teorici del trio eh Pincus Wright e Hopfud sulla cosiddetta teoria integrativa interpersonale contemporanea che su cui stanno lavorando loro ma cioè diciamo una una ripresa che c'è sempre stata in psicoterapia ma grazie soprattutto a Jeremy Safran a partire da quindi fine anni ottanta inizio anni novanta e poi appunto a opere più recenti ha un po' ripreso questo filone interpersonale noi appunto sono arrivati a formulare addirittura l'idea che forse dovremmo parlare di disturbi interpersonale piuttosto che di disturbi di personalità eh al contempo Fona che ha pubblicato recentemente un articolo dicendo che o in qualche modo tutti le psicopatologie sono disturbi di personalità o non esistono i disturbi personalità quindi questo filone teorico mi mi convince molto cioè l'idea che eh come dire c'è c'è un c'è un modo a mio avviso uno dei modi forse un modo più percorribile che vedo adesso nell'uscire dall'impasse in cui spesso si infila la psicologia la psicoterapia cioè questa frammentazione di linguaggi eh parcellizzazione di protocolli eccetera è fare quello che già in medicina si fa che teoricamente dovremmo essere noi quelli che propongono robe un pochino più ideografiche cioè che il focus sulla traiettoria del paziente no in medicina chiama la traiettoria di malattia quindi non come sta qui ed ora ma la traiettoria evolutiva che porta adesso no e in questo senso dai lavori di Dante Cicchetti, Hockenbach ha appunto lavori più recenti su modelli dimensionali come IMPD, HITOP e simili c'è sempre più un'attenzione a come eh ci sia un continuum tra eh temperamento eh forme iniziali di personalità, sviluppo della personalità, tentativi di adattamento e poi manifestazione di eh forme psicopatologiche che hanno a che fare con questi tratti, con queste traiettorie piuttosto che con la categoria diagnostica no? Nel senso che banalizzo però almeno ci capiamo eh chi ha più tendenze internalizzanti quindi probabilmente ha una maggiore tendenza all'inibizione, introversione eccetera di fronte a uno stress magari manifesta forme di ansia autocritica e simili eh funzionamenti esternalizzanti non è che non abbiano problemi ma magari probabilmente problemi di subito della condotta dipendenza dalla sostanza eccetera quindi l'idea di una visione integrata tra eh di psicopatologia to cure e disturbi personalità sta in questo no? Cioè e se noi comprendiamo la traiettoria evolutiva dei tratti del funzionamento del la persona possiamo poi più facilmente anticipare come di fronte a condizioni di stress manifesterà insieme un cluster o un altro cluster di di sintomi quindi questo ci 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 aiuta a meglio comprendere anche a sapere come puoi sartorializzare l'intervento perché ad esempio su cioè per quanto mi stiano a volte un po' noiosi interventi espositivi su sintomi massivosi accessivi funzionano molto bene poi eh mentre se li vai a fare su un paziente con tratti schiziotipici un esordio psicotico rischia di finire in trasera no? Quindi la comprensione del funzionamento generale non solo mi aiuta a anticipare quale tipo di manifestazione sintomatologica può emergere ma anche ad adattare il tipo di tecnica intervento e lo stile anche relazionale del terapeuta nel gestire quel funzionamento di personalità. Quindi in questo senso questo cioè la prospettiva interpersonale la prospettiva dimensionale sono due dei filoni più importanti a mio parere il terzo diciamo qui c'è un bias di preferenza mia sicuramente faccio un disclaimer la prospettiva evoluzionistica perché offre un buon modo a mio avviso per come dire uscire. Ci torneremo su perché l'ultima domanda è proprio su quello. Ah faccio spoiler ok. Non fare spoiler. Allora molto interessante. Su questo punto poi dell'interpersonale magari ci torniamo su con le altre domande. La terza domanda è nello stato dell'arte attuale della psicoterapia quali sono i principali limiti conoscitivi ed intervento quali sfide la mente ma nella psicopatologia ci pone ancora. E sono tanti. Già spoiler anche io. Sì è un domandone anche questo. Allora secondo me c'è un problema strutturale della psicologia clinica e della psicoterapia che è dato appunto da questo stadio che nei miei termini è pre-scientifico, pre-paraglimatico nel senso non che in psicologia clinica e psicoterapia non si faccia ricerca scientifica rigorosa ma non stiamo utilizzando un paradigma comune per fare questa ricerca. Cioè c'è soprattutto in clinica una frammentazione enorme dei linguaggi per cui ognuno chiama con modi diversi le stesse cose e c'è questa specie di esplosione di eterogeneità che se da un lato è coerente col fatto che noi non abbiamo parametri scalari tipo ho il diabete o non ho il diabete in base a quella soglia lì è un po' difficile da individuare in psicologia clinica però rende molto difficile la convergenza nel senso che io trovo estremamente noioso il dibattito tra fattori comuni e fattori comuni specifici in psicoterapia, aver detto del dodo eccetera cioè mi sembra un disco rotto però questo è un mio problema. Cioè il punto secondo me è molto più banale no? Cioè è evidente che ci sono sia fattori comuni che fattori specifici. Il problema è perché mai non cerchiamo in maniera molto sana fare cose diverse nel senso che io appunto cambio anche cosa faccio in base al problema del paziente perché non... e se non sono in grado invio a un collega perché ad esempio le cose che solitamente faccio io in cui mi sento più ammoraggio ad esempio non funzionano su forme conclamate e gravi di disturbo ossessivo compulsivo perché dovrei imporre al paziente della roba che non funziona o che so che limitatamente funziona quando magari c'è la collega nella stanza accanto che... ok. Quindi secondo me questo è il limite maggiore è un limite che ha delle componenti strutturali ad esempio che non si investe in ricerca e in psicoterapia per cui valutare se funziona meglio la schema therapy o la mentalization based treatment per il disturbo porto della personalità lo dovrebbe fare un ente esterno non un centro di ricerca sulla schema therapy o sulla mentalization based treatment no? Perché è come se noi affidassimo tutte le pubblicazioni sui prodotti Pfizer alla Pfizer chiaro ci vuole un ente regolatore esterno questo non c'è poi sicuramente diciamo almeno la tua domanda nei miei termini apre anche a possibili direzioni di cambiamento del funzionamento della macchina mente uomo e quindi anche se ho capito bene anche se ci sono nuove forme di psicopatologie o se le psicopatologie si stanno evolvendo ho capito male allora quello viene dopo c'è una domanda che ti faccio ah ok ok allora diciamo questa è più su che cosa riusciamo a sapere di non sapere cioè proprio quali sono ancora i nostri limiti più eclatanti tu adesso hai sottolineato quello del che ci mettiamo un po' i bastoni tra le ruote e poi si collegherà alla domanda successiva che è quello dell'integrazione del fatto che ci sono questi settarismi questo che dicevi tu della ricerca che va probabilmente a rilento anche perché poi gli appassionati di un certo filone poi sono anche gli stessi autori di ricerca legata a quel filone e poi secondo me l'altra cosa appunto questo diciamo si entra un po' apro e chiudo rapidamente nel mondo dell'epistemologia però pur essendo la psicoterapia teoricamente basata su un paradigma che dovrebbe essere pienamente biopsicosociale integrazione mente-corpo spesso noi tendiamo ad utilizzare categorie conoscitive, metodologiche ancora molto ancorate a modelli biomedici retro e quindi molto dicotomici anche rispettamente corpo per cui alla fine poi cerchiamo di dire che ho ragione io rispetto all'altro utilizzando paradigmi vecchio stile quindi devo trovare una determinata prova o strategie anche proprio metodologiche per cui se riconosciamo anche una certa necessaria ineludibile come dire sartorializzazione dell'intervento significa che poi va bene raccogliere i dati ma in quei termini no? cioè noi poi tendiamo a comunque il grosso della ricerca è ancora in mano a criteri di ingresso su diagnosi categoriali l'ICD11 ha mantenuto il pattern borderline che sta in piedi solo per avere i fondi e per tenere in piedi i centri di ricerca no? cioè però se vogliamo andare nella direzione non significa che allora molliamo la statistica ai trial ma li dovremmo fare con appunto prospettive che valorizzino la differenza interindividuale no? piuttosto che chiudiamoli tutti nel cluster lì che è la diagnosi questo cioè molto però secondo me anche da non so se può dire resistenze culturali o semplice tendenza a trovare la soluzione più rapida da parte di noi clinici e di noi ricercatori questo ecco quindi tu vedi nel oltre a la complessità dell'oggetto di studio di cura che non potevamo scegliere lo più complesso che epistemologicamente osservatore e osservato vengono a coincidere no? già anche questo epistemologicamente è una sfida di base di tutto ciò che è psico qualche cosa tu dici c'è proprio un discorso culturale e poi anche proprio di sistema come sono le università come il mondo clinico come il mondo delle varie mille scuole di psicoterapia che a loro volta si dividono in mille sottogruppi ok e allora mi hai come dire hai aperto automaticamente alla domanda successiva che che opinione ti sei fatto rispetto alla necessità di un dialogo integrazione tra approcci psicoterapeutici diversi guarda è un tema enorme se no facciamo notte però ecco nei miei termini proprio non è una questione di bontonna relazionale cioè l'obiettivo è proprio sciogliersi gli uni con gli altri cioè fin quando noi avremo queste nette separazioni tra protocolli eccetera la psicologia clinica la psicoterapia nei miei termini poi la mia opinione non è che ci mancherebbe certo non saremo pienamente in un paradigma scientifico perché se fossimo chirurghi e te potremmo stare a disquisire su quali dati supportano maggiormente quel determinata tecnica o quell'altra però sul fatto che entrambi cerchiamo di condividere lo stesso linguaggio chiaro che il paradigma biomedico è diverso però che cerchiamo di condividere lo stesso linguaggio cerchiamo di stare all'interno dello stesso contesto narrativo quello lo daremo per scontato e in questo senso secondo me poi ha un ruolo fondamentale anche le istituzioni hanno un ruolo fondamentale le istituzioni come si diceva prima da enti regolatori che dovrebbero mettere bocca nella ricerca in ambito clinico non solo finanziarla ma anche poi monitorare maggiormente noi alla fine siamo riconosciuti come operatori professionisti sanitari quindi è bene che la cosa sia regolata e quindi anche vedi in termini di ora gli UK hanno fatto questa soluzione che è un po' transhan però anche quella di obbligare tutti a definirsi o cognitivo comportamentale o sistemici o psicodinamici quella è un po' transhan però è bene anche come dire un po' porre dei freni anche a livello proprio istituzionale su questa continua esplosione in questo senso ripeto l'integrazione non è una possibile strada è l'unica strada possibile nella direzione della scienza e integrazione nei miei termini è integrazione per come intendeva Millon cioè non integrare per far tornare a Simone Kelly le sue idee ma integrare nel paziente cioè per aiutare Mario Rossi che ha quel funzionamento quella traiettoria bla 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 cosa mi serve utilizzare abbiamo questa enorme cassetta degli attrezzi che è un secolo e mezzo quasi che costruiamo cosa funziona per quello cosa funziona per l'altro ecco questo in maniera idealistica forse però come dire la mia no è hai un po' insomma hai detto la scomoda verità che più o meno sappiamo tutti quantomeno quelli che vogliono guardare fino in fondo no concordo concordo nel senso che il primo step è mettere al centro il paziente no la mia scuola no poi è assolutamente etico è necessario dire guardi questo approccio che funziona le indico un possibile alternativa a un collega che magari come questo è un altro discorso di base tutti noi clinici dovremmo mettere al centro non la scuola provenienza ci sono tante dinamiche che sono state più o meno studiate dinamiche sociali dinamiche quasi a tratti religiose in certe scuole in cui il grande autore non sono non solo i grandi autori dinamici ma anche i recenti in ambito collettivista che sono un po' come dei profeti allora passi trent'anni a rileggere sempre quello e a fare un'ermeneutica del testo sacro che non sto dicendo che certe intuizioni hanno tanti strati e le devi tornare su per 20 30 40 anni ma il punto è che onorare i primi grandi esploratori è proprio anche andare oltre loro sviluppare quello questo è un altro fattore poi non sottovalutiamo anche certe il discorso dell'anzianità cioè della difficoltà poi dopo una certa età di mettersi in discussione perché se è lavorato su di sé in un certo modo per decenni è lavorato in un certo modo con i pazienti e quindi proprio qui vediamo il difficile connubio tra un'attitudine scientifica e un'attitudine umanistica ultimo spunto da condividere io spesso mi sono trovato a dialogare con colleghi che sottolineavano eh però il lavoro psicoterapeutico non può ridurlo alla conoscenza in terza persona scientifica verissimo è vero che c'è un discorso assolutamente fenomenologico in prima persona ma non è che è oh oh è no no e su questo si fermano eh molti colleghi lo si conosce Sadi Maraba è stato ancora recente a Padova la storia che abbiamo insegnato sia psicologia generale che storia psicologia lui ha scritto vari testi di storia della psicologia italiana e uno della storia della psicologia in genere lui dice il problema della psicologia italiana è sempre stato quello della autonomia epistemologica no che non è che dobbiamo o aderire al modello filosofico o aderire al modello medico no ci vuole un modello specifico per questo campo che beneficia di entrambe queste punti eccetera però deve deve esserci no se no non abbiamo niente da portare da portare a verifica ecco quindi poi sul discorso che dicevi te no c'era la famosa frase di Lacan no il problema non è Freud sono i freudiani nel senso che guarda io vengo da una matrice junghiana già diceva per fortuna che non sono junghiano più o meno anche se le parole ne erano proprio queste io sin dai tempi figurati di quando ero studente all'università a psicologia feci proprio poi una tesi di taglio epistemologico nell'ambito psicoterapeutico proponendo una base comune di epistemologia della complessità che concilia questa dialettica che Moren parlava di dialogica ok va bene no ma cioè è una cosa però non è speriamo qua perché sennò poi dura due ore perché ho altre però sto interrotto se volevi finire no 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 ok abbiamo ancora tre domande allora se si esclude questa è la quinta se si esclude la conoscenza teorica e tecnica nel senso che riteniamo che uno deve avere una competenza costantemente aggiornarsi che competenze psicologiche deve sviluppare negli anni e un buon psicoterapeuta allora ti do una risposta forse un po' diversa a quello che ti aspetta cioè nel senso che ovviamente è necessaria un lavoro personale cioè un lavoro su di sé perché secondo me non se concordiamo sul fatto che la relazione terapeutica sia allora se usiamo modelli minimalisti iper comportamentisti è scontata e quindi non ne parliamo però comunque è il contesto no è come dire sì sto sto imparando a notare faccio finta che l'acqua non esista va bene contenti voi ok però se usiamo un approccio più interpersonale è uno strumento centrale di conseguenza la capacità di riconoscere l'attivazione di certe risposte mente-corpo ha i meccanismi del paziente è fondamentale perché è l'equivalente di avere per un biologo un buon microscopio funzionante quindi e soprattutto per chi almeno è interessato come sottoscritto a lavorare sugli aspetti più di personalità significa poi offrire uno strumento conoscitivo fondamentale al paziente ma implica io essere in grado di decentrarmi un attimino dal mio automatismo per far vedere al paziente che sta succedendo quindi secondo me dovrebbe essere obbligatorio fare un lavoro di terapia su se stessi certo perché banalmente sperimentare come si sta dall'altro lato della scrivania più finemente appunto saper lavorare su questo e quindi anche perché questa capacità di poi comprendere regolare scegliere cosa condividere cosa no cosa su cosa fare self expressing per favorire un apprendimento al paziente su cosa fare o non fare self disclosure perché può essere è un lavoro estremamente fine che uno ci si deve esercitare c'è un'altra componente per me che si ritorna al punto iniziale cioè sulla profilazione della traiettoria del paziente che deve essere anche solo il terapeuta io ho un atteggiamento un po' anomalo su questo cioè nei miei termini per quanto lavoro personale fai ci saranno sempre degli degli stili di personalità con cui ti ci trovi bene su altri su cui non ti ci trovi bene e non hai detto che tu sia in grado di lavorarci un bravo terapeuta secondo me è in grado di dire io con quella roba lì meglio se non ci lavoro e noi stiamo parlando a fare uno studio su questa è una fatica in mano perché implica raccogliere dati sulle coppie di paziente terapeuta però ci sono vari studi alcuni studi iniziali che mostrano come come dire un senso di percepita affinità sullo stile interpersonale personologico del terapeuta da parte del paziente è un fattore utile alla tenuta dell'alleanza terapeutica e probabilmente anche agli outcome quindi io ho la grossa fortuna di lavorare in un centro noi siamo non mi ricordo circa 25 quindi noi facciamo una selezione in base a funzionamento le competenze lo stile interpersonale del paziente funzionamento cioè le competenze del terapeuta lo stile interpersonale terapeuta e quindi in questo senso anche riconoscere che certe cose io non ci so stare o farei una fatica in mane e sarei un costo inutile per il paziente quindi al solito meglio mandare a qualcuno che ci sta più comodo quella situazione lì e quindi insomma mi confermi un po' io che anche in altri ambiti in cui qualche decennio fa tipo certi ambiti cognitivo comportamentali c'era un po' l'aspettativa che una dimensione rigorosa protocollare e tecnica simili a tratti quasi o laboratoriale o medicale potesse invece la sensazione è che sempre più anche in ambito cognitivo comportamentale da tanto tempo ci si rende conto che sei radicalmente ingaggiato visto che la relazione poi è la sostanza significativa di quello che poi può avvenire all'interno della terapia ovviamente poi c'è anche una dimensione tecnica e non lavorare sui propri schemi possiamo chiamarli come vogliamo sulle proprie idiosincrasie stile razionali poi lì di nuovo già trovarsi con un linguaggio non solo ha una ricaduta nel lavoro col paziente ma ha una ricaduta anche poi sulla qualità della vita del terapeuta stesso perché comunque è un mestieraccio è bello impegnativo insomma secondo me è anche una ricetta fondamentale alla prevenzione del burnout dei terapeuti esatto e quello che hai detto te poi mi sembra auto evidente per cui direi inutile parlando è in principio unimo della comunicazione tutto verrà interpretato quindi anche se mi metti un robot a farmi terapia io non è che sia contrario a prescindere però funzionerà nella misura funzionerà nella misura in cui l'intelligenza attivituale verrà addestrata a manifestare delle componenti verbali e non verbali che mi attivano in me nel senso che tu sei vicino a me quindi io ti attribuirò gli stessi significati che attribuirò se sarò invece in presenza a far terapia con il dottor Giacoma ok cioè quindi ripeto è un po' dove nasce l'uovo e la gallina secondo me ecco quello che potremmo lanciare parlo per me secondo me bisognerebbe mai bisognerebbe stimolare valorizzare è che come spesso diciamo anche i pazienti guardi che adesso facciamo questo percorso può essere che in fasi diverse della vita anche di mezza età in lutto possono può essere necessario riprendere oppure aggiungere un altro percorso ecco anche per noi anche per noi sperimentare in fasi diverse della vita terapie sperimentare oltre approfondire teoricamente essere noi dall'altra parte in diversi percorsi con colleghi con cui ovviamente ci ci interessa lavorare supervisioni ecco proprio con questo discorso di integrazione che si ricollega la domanda precedente va bene dai passiamo alle ultime due come sta cambiando la psicopatologia e quali sono oggi le psicopatologie più complesse da affrontare secondo te questa è una domanda la domanda diciamo alla quale non ho una risposta chiara anche perché non vedo dati chiari a riguardo nel senso che parto dai dati che forse intorno a essere più chiaro e confusivo diciamo uno dei grandi dibattiti attualmente in corso è quello legato a l'emergere di fenomeni pubblicistici slash di contagio rispetto a varie problematiche che vanno da la neurodiversità a la dhd ecc premesso che sì c'è una componente modaiola noi per primi i primi responsabili siamo siamo noi per cui vi può essere un po' come dire andiamo un po' affittonate come si dice in termini sergali però poi l'atto pratico non abbiamo dati ad oggi per dire se questa aumentata cioè è uscito anche uno studio recente che ha mostrato dei aumenti di prevalenza eccetera però non siamo in grado e hanno fatto tipo uno studio dove erano nei paesi scandinavi cioè facendo vedere che nelle nelle scuole analizzando per cluster quindi per gruppi che interagiscono tra di loro sembra esserci una sorta di effetto contagio cioè se io e te siamo in classe e tu dici di avere una psicopatologia aumenta la probabilità di poco ma aumenta un po' la probabilità che io dica la stessa cosa soprattutto per i sintomi internalizzanti per il resto no però gli autori pubblicato su Giamma quindi su la rivista cosa hanno detto hanno detto che fondamentalmente noi non siamo in grado di dire se è l'effetto benefico di poter dire anch'io sto male laddove invece non me la sentivo di dirlo o è l'effetto di tu che mi influenzi e quindi io ho una come dire una sintomatologia per procura in qualche modo quindi noi quindi di metermi chiunque prenda una posizione in un senso non altro è una posizione così un'ipotesi non è una posizione fondata empiricamente un dato che però invece due dati che invece mi colpiscono e che mi tornano è se ti ricordi alcuni anni fa uscì una serie tv che si chiamava 13 Reasons Why cioè 13 ragioni per cui mi sembra questa in Italia era presente una serie tv che parlava ex post del suicidio di una ragazza in una high school americana e c'era l'amico di questa ragazza che per tutta la serie tv rifletteva su perché per come lei si fosse si fosse ammazzata successo il solito putiferio ah esponete i giovani a un aumentato rischio di azioni suicidari agiti suicidari eccetera invece c'era uno studio e quello che venne fuori è che non c'era stato un aumento degli agiti suicidari durante le stagioni c'era stato un aumento dei contatti al numero verde ora siamo un numero però per intendersi al numero verde ti capita a volte di avere questi pensieri parla con noi gratuitamente a questo numero che veniva messo alla fine di ogni puntata i pochi dati che vedo in giro nei miei termini non sono contrari a più si parla non sono a favore di più si farla più si espone a un rischio di finta psicopatologia più si parla più è facile che magari le persone si sentano autorizzate a cercare aiuto questo certo l'altro dato che secondo me invece è un dato evidente e c'è una connessione evidente che in stati come l'Italia stiamo sottovalutando qui sempre anche culturale della professione e politico dell'ambiente è l'impatto del cambiamento climatico perché lì abbiamo dati solidissimi su un aumento enorme delle preoccupazioni e dei sintomi associati a quelle preoccupazioni nelle fasce giovanili e quella che è una sorta di sindrome di Cassandra nel senso che le nuove generazioni non ci ascoltano minimamente e non a caso saranno morte quando noi saremo a gestire problemi dalla loro cattiva gestione dell'ambiente quello lì io che primariamente lavoro con tarda adolescente e giovane adulti lo vedo molto frequente i dati ci sono studi internazionali molto solidi mostrano un aumento di questo questo secondo me è tra tutte le cose la cosa che vedo più solida e più sensata come incidenza perché noi abbiamo dati solidissimi sul fatto che l'aumento dell'inquinamento si associa a di stress generale addirittura l'inquinamento ambientale quindi proprio la pollution predisce più elevati tassi di psicosi questi sono studi pubblicati da da Lancet ecco non la rivista Simone Kelly di San Frediano ok quindi lì è un ambito su cui in Italia proprio sia a livello politico che culturale della professione ci stiamo poco interessando io sto cercando di formarmi un po' perché anch'io sì ok ci lavoro con gli strumenti che ho però penso sia un ambito futuro una domanda mi è stimolato questo discorso dicevi tra l'adolescenza giovani e adulti sappiamo che c'è sempre questo impatto storico culturale sociale politico anche nello sviluppo delle psicopatologie non vivono in un mondo astratto è molto interessante come sono mille fattori quindi sto guardando solo questo punto qui come questo come la percezione delle generazioni precedenti dei propri genitori dei propri nonni responsabili di questa condizione impatta poi nel rapporto genitori figli o meglio figli verso genitori hai qualche idea allora io ti dico cioè non ho dati ti dico la mia esperienza clinica c'è questa sensazione appunto di raccomandolo di Cassandra cioè di rabbia in cui ha in base al tuo funzionamento di personalità può portare a forte autocritica vergogna problemi di condotta o addirittura senso di disconnessione cioè in base allo stile interpersonale io tendo perché stiamo facendo studi su questo a distinguere tre macro stili interpersonali in base a tre spectra di psicopatologia cioè uno stile un po' più iper affiliativo per i sintomi internalizzanti cioè quindi voglio fare di tutto per essere connesso a te uno stile più esternalizzante antagonistico distanziante in cui tu sei ostacolo al raggiungimento del mio benessere uno stile più comune nello spettro schizotipico è quello uno stile un po' più come dire difensivo l'altro come minaccia a volte anche fisica vedi la paranoia eccetera quindi secondo me in base ai tre stili questi tre che uso io per semplificare ho mille altri stili però poi cambia però c'è questa componente io provo un'angoscia enorme vedo dei dati coerenti perché i dati solo chi è cieco non riconosce dati sul disastro al quale stiamo andando incontro da un punto di vista climatico perché sono dati oggettivi e incontrovertibili ormai che raccogliamo da 25 anni cioè noi faccio per dire una cosa è passata totalmente secondo me insordina che magari i tardi adolescenti o giovani sanno e che a noi abbiamo raggiunto un livello tale di aumento delle temperature dell'oceano per cui almeno per un certo livello di disastro ambientale siamo già oltre il punto di non ritorno se parli con ragazzi giovani la stanno questa cosa i genitori non la sanno quindi c'è la sensazione di qualcosa che mi genera enorme angoscia impredicibilità per il futuro e l'altro o è disinteressato o addirittura a volte ha un atteggiamento respingente normativo quindi questo crea secondo me un enorme gap generazionale proprio frattura generazionale e è un ambito secondo me che all'estero si comincia a studiare ci sono anche riviste dedicate a questo ancora un po' di nicchia dico appunto stati come Svizzera Germania Stati Uniti Canada l'Italia al solito noi parliamo di ecoterrorismo per invogliare i giovani a esprimere liberamente i loro vissuti scusa te l'ho presa lunga ma è un tema reputo molto importante che travalica un po' la psichiatra molto interessante perché rimanendo in questo ambito come cambia la genitorialità e il rapporto dei figli con i genitori nelle ultime generazioni io ero sto cercando di unire un po' questi tuoi stimoli a quelle che sono altre invece ipotesi che si fanno del fatto che sui grandi numeri legato anche il discorso della società narcisistica cioè il fatto che non c'è soltanto il genitore normativo che ovviamente ti mette delle regole ti propone anche un ideale a quale tu figlio devi più o meno tendere o ribellarti ma c'è proprio un genitore molto più bisognante esplicitamente o implicitamente che chiede al figlio conferme della propria validità della propria amabilità come proprio si inverte il ruolo quindi se andiamo a sommare questo dato oggettivo degli adulti perché poi i giovani fanno il cluster gigante gli adulti come quelli che non si stanno prendendo cura di quello che poi sarà il mondo disastroso dal punto di vista climatico ambientale che per di più poi nella relazione per quanto rigidi per quanto vetusti però danno un senso di solidità no nemmeno quello ci chiedono quasi a noi legandoci in alleanze disfunzionali dove non possiamo neanche permetterci di sentire il nostro vero desiderio perché tutti presi da rispecchiare i bisogni ora io non volevo generalizzare mi riferivo a questo tema specifico dell'ambiente che è un ambito su cui sento e gli studi suggeriscono sul discorso generale poi di confusione anche sui ruoli genitoriali non è un ambito di cui mi occupo per cui non scendo troppo nel dettaglio perché rischio di fare qualunquismo ecco sicuramente cioè io termini storici che comprendo meglio come è il processo cioè abbiamo generazioni di giovani che affrontano questo futuro sull'ambiente e generazioni di genitori che invece vengono da ere di crescita tipo anni 80 anni 90 in cui l'illusione della crescita esponenziale del benessere del PIL era un tratto distintivo della società quindi magari spiega anche quello che dice però ripeto io non non è un ambito di cui mi occupo e quindi evito di fare qualunquismo ecco ok ultima domanda grazie agli sviluppi della psicologia evoluzionistica quindi torniamo a quel punto che dicevamo prima dell'etologia comparata delle neuroscienze e molte altre discipline negli ultimi trent'anni siamo molto più consapevoli che essere specie Homo sapiens non è neutro psicologicamente essere una specie ci sono delle tendenze di specie possiamo ipotizzare poi tutto da capire in che termine come vedi il contributo di questa importante nuova mappa di conoscenze nello sviluppo della psicoterapia allora io cioè diciamo due o tre cose uno mi sembra evidente che molti dei moderni approcci alla psicoterapia fanno diretto o indiretto riferimento a modelli su base evoluzionistica da appunto discendenze chiaramente esplicitate da modelli come quello di Bolbi che è stato probabilmente il primo a chiaramente riferirsi ad un modello evoluzionista ritroviamo da appunto cognitivismo italiano alla mentalization based treatment a molte molte cose a modelli più cognitivisti anche comportamentisti come l'IBT o l'Aero-DBT in cui comunque vi è una discussione su come certe conoscenze informano il modello biotemperamentale che si ritrova sia nella DBT che nella Ro-DBT ha appunto in Italia ripeto il cognitivismo italiano tutte le manifestazioni dalla giuroterapia cognitiva evoluzionista di Gianni Liotti ma anche il lavoro di seminari di maggio fa chiaramente riferimento al lavoro di Liotti che a sua volta riprende il lavoro di Gilbert che appunto anche lì è una compassion focus therapy la lascio per ultimo perché è una psicoterapia che direttamente cioè in cui proprio c'è una una psicoeducazione in cui parli al paziente come faccio anch'io di evoluzionismo con linguaggio non gergale cioè non non scientifico tecnico ma vuoi spiegare vuoi usare questa roba anche proprio nel dialogo clinico quindi c'è questa base secondo me evidente no che è una se non un mainstream un undercurrent una corrente carsica presente in tutti i moderni approcci alla psicoterapia da un punto di vista come possibilità di potenzialità lì ritengo che sia uno degli strumenti più potenti e trasversali anche per promuovere quell'integrazione che si diceva prima perché è un approccio scevro da posizionamenti teorici sono psicodinamico te sei cognitivista allora siamo litigati eccetera cioè si va su cercare di definire l'ambiente con una prospettiva empirica si va a definire i tratti con una prospettiva empirica si va a vedere l'interazione e quindi anche si vai a vedere come oggi autori di neuropsicopatologia evolutiva come Dante Cicchetti e tutto il filone connesso a Cicchetti definiscono la sensibilità emotiva nei bambini che poi si associano meno eventi traumatici eccetera e lo confronti con il tentativo all'interno della psicopatologia evoluzionistica di ridefinire il paradigma di diatesi stress le convergenze sono enormi che è quello che si diceva prima cioè non mi basta associare la vulnerabilità soggettiva a lo stress ambientale io devo comprendere la traiettoria i tratti perché in base ai tratti è l'interazione tra tratti ambiente che mi dà una risposta quindi non bastano le due variabili come nel classico modello sul diagramma cartesiano diatesi stress per cui posso avere la stessa sintomatologia severità di sintomatologia maggiore vulnerabilità più basso stressor maggiore stressor più bassa vulnerabilità noi dobbiamo vedere proprio quella che cioè cercare di rispondere alle quattro domande di Tim Bergen che sono come si è evoluto il tratto sia a livello filogenetico siamo arrivati lì perché cioè perché la paziente presentavo non riusciva a non avere questa strategia affiliativa perché è un sapiens perché siamo una specie che richiede un quarto di secolo per arrivare in fondo allo sviluppo neurocognitivo la prefrontale arriva fino addirittura a 25 anni in alcuni casi quindi è impossibile che il tema interpersonale non sia centrale non perché abbiamo un posizionamento ideologico sulla prospettiva interpersonale ma perché il tratto distintivo della nostra specie è il cervello sociale ok esatto e non a caso le patologie più gravi si spiegano in questi termini i sociologi hanno il name americano hanno studiato che tutti noi abbiamo geni di Neandertal maggiore è la quota di geni di Neandertal che tu hai minore il rischio che tu abbia una schizofrenia o una psicosi e se ce l'hai avrai sintomi più bassi perché i disturbi gravi sono una compromissione del funzionamento sociale e il cervello sociale il funzionamento sociale è il tratto distintivo di sapiens e quindi noi dobbiamo cioè parliamo di un disturbo nostro distintivo della nostra specie e l'altro poi sono le domande quindi qual è il meccanismo attraverso cui il tratto si esplica sempre tornando alle domande di Timberger e qual è la funzione quindi qual è l'adattamento o meno alla luce dell'interazione tra il tratto e l'ambiente queste domande sono domande che facilitano il nostro lavoro cioè ci mettono in una prospettiva appunto o transteorica o ateorica come preferisci e in questo senso non solo favoriscono un superamento della dicotomia tra dati psicologici fenomenologici e dati biologici genetici è la stessa roba cioè io tendo a annoiarmi mi annoia che ancora dobbiamo confermare che mente e corpo sono la stessa cosa e che Cartesio faccia l'anima sua non aveva ragione e l'altra cosa poi l'integrazione in senso di approcci diversi cioè vediamo cosa funziona no? ci sono alcuni atteggiamenti del terapeuta alcune tecniche che in base a quella traiettoria a quella fase della traiettoria funzionano meglio e l'altra questo che dovremmo studiare quindi in questo senso l'evoluzionismo è un background sia teorico che metodologico fondamentale e ci aiuta a capire sia cosa possiamo e non possiamo fare ad esempio una delle teorie più interessanti sul neglect emotivo l'ho letta in ambito evoluzionistico cioè che veniamo da società tribali noi per milioni di anni siamo stati tribù e il problema non è è che noi poi adesso abbiamo messo i bambini a crescere con solo due figure di riferimento o anche solo una quindi e questo è successo in poche migliaia d'anni è un tempo troppo limitata la biologia per rispondere ai problemi dell'eglec del motivo no? stessa cosa vedi cioè come torno all'esempio no? dell'impatto dell'ambiente del cambiamento climatico senza un iperinvestimento sull'educazione non cambiamo i comportamenti sociali perché noi cioè lo sviluppo della nostra specie negli ultimi lanciati migliaia di anni che ho niente in termini evoluzionistici esploso tutto siamo passati da accendere fuoco con 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 le pietre a volare nello spazio e quindi quel quel meccanismo esponenziale di non comprensione della legge di Malthus che quando è esaurito le risorse poi la demografia crolla non la non la comprendiamo perché è una cosa che richiede educazione no? che un po' per tornare all'inizio e poi mi taccio per quello che è fondamentale nei miei termini condividere un funzionamento con un paziente e fare anche una forma di psicoeducazione non perché voglio fare catechismo al paziente ma perché il nostro cervello è enormemente complesso e si è sviluppato troppo rapidamente per cui noi dobbiamo allenarci a gestire dei meccanismi non ottimali questa è l'espressione che si usa in evoluzionismo cioè tipo l'ansia ha dato i vantaggi ma l'evoluzionismo non è teleologico no? cioè non è che quello che emerge è la cosa perfetta nella teodicea di Leibniz quello che emerge è ciò che emerge a volte funziona a volte non funziona a volte è un meccanismo non ottimale molti dei nostri meccanismi psicologici sono meccanismi non ottimali e quindi senza un lavoro intenzionale di allenamento di addestramento non ne usciamo la psicoterapia è uno dei loro strumenti per fare questo secondo me allora super stimolante ovviamente ho messo in fondo le domande sono uguali per qualsiasi collega con cui dialogo proprio perché condivido con te che siamo ognuna soglia nei prossimi anni l'integrazione di tutte queste varie discipline che stanno sotto il cappello evoluzionistico che avranno io penso come te delle grandi potenzialità al punto di vista pratico se hai ancora due minuti volevo chiederti una cosa sì sì io non ho furia non volevo uccidere di sonno i tuoi utenti no 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 non ti preoccupare chi segue questo canale è perché ha una buona resilienza una grande curiosità o disturbi del sonno trattati sono altri canali che danno l'omogeneizzato discutendo con Marco Del Giudice comunque adesso a breve faremo un altro dialogo proprio sulla psicopatologia che avrò piacere di girarti ragionavo su questo che rivolgo queste domande anche a te allora c'è tanto dibattito di la criticità di portare avanti un discorso di psicoterapia evoluzionistica poi bisogna intendersi sui termini quello su cui si rifletteva è però degli interventi più evoluzionisticamente based più che un'intera psicoterapia e a me veniva questo esempio sai che nel modello della mindfulness di Oxford quello per evitare le ricadute depressive quindi non per curare la depressione ma per evitare le ricadute poi sul piano delle neuroscienze si è visto il ruolo fondamentale del default mode network e noi non avendo dei neandertal con cui confrontarci a livello fisiologico psicologico culturale diventa trasparente il fatto che noi siamo homo sapiens ma non sappiamo come magari poteva essere il default mode network di un neandertal nel momento in cui tu vai con la mindfulness a lavorare sul default mode network ok non è così distante da quanto questa è la domanda non è così distante da quando tu fai un intervento psicoeducativo su base evoluzionistica no certo che noi non smettiamo mai di essere homo sapiens ma nel contempo di essere quel specifico individuo con quella biografia che ha reagito in quella maniera a quel rapporto disfunzionale nell'attaccamento che ne so con la madre o col padre però incominciare a dire ok all'interno di quella storia di attaccamento il tuo default network è stato se è iperattivato o ipo ipersemplifico lavoriamo un attimo su quello sempre questa logica e io lì sto facendo un intervento di base evoluzionistica in ambito psicoterapeutico certo che anche Volbi come dicevi tu all'inizio porta un qualcosa di evoluzionistico prendendo dagli studi sui primati no però ha senso secondo te incominciare a dire che da qui a 10-15 anni ci sarà una direttica interessante di interventi evoluzionisticamente based all'interno delle psicoterapie sì secondo me allora è un terreno molto complesso secondo me ci sono diciamo così due o tre livelli possibili di questo tipo di integrazione che dici uno è su interventi informati da un background evoluzionistico e che quindi le ipotesi sono coerenti con il paradigma teorico dell'evoluzionismo e vanno a trovare conferme sperimentali in cui la predizione è basata sul modello evoluzionistico cioè faccio un esempio su quello che stiamo facendo noi noi stiamo formulando un modello di concettualizzazione condivisa basata su questo stiamo facendo un lavoro di raccolta dei dati formulazione teorica eccetera stiamo provando a condurre degli studi che confermino questo quindi studi correlazionali predittivi eccetera e poi andiamo a verificare che il modello sia di utilità tanto per i terapeuti tanto per i clinici e questo è uno degli studi che stiamo facendo quindi qui diciamo è più infatti l'abbiamo chiamato un evolutionarily informed conceptualization quindi un modello di concettualizzazione informato evoluzionisticamente quindi guidato da ok altro è il proprio diciamo un livello ancora più profondo in cui cioè proprio si si va a a a tenere il modello evoluzionistico per formulare l'ipotesi e si usano approcci evoluzionistici all'interno della psicoterapia su quello secondo me lì dove dobbiamo stare molto attenti perché se no si rischia di svalutare l'utilità dell'evoluzionismo esempio classico secondo me è la life history theory che è uno strumento fondamentale dell'evoluzionismo ci sono notevoli spunti e riflessioni vedi il lavoro appunto sia Marco Del Giudice Martin Brune eccetera però dobbiamo anche essere onesti nel riconoscere come ad oggi questo è un articolo applicato anche a fa di Nettel cioè la life history theory in psicologia parla di roba che è diversa dalla life history theory in biologia evoluzionistica ovvero noi ancora non abbiamo dati chiari su dire che determinate strategie si associano a determinati dati biomedici perché tu distingui una strategia slow nell'elefante rispetto alla strategia fast nel topolino perché ci sono dati oggettivi no? il menarca il numero di figli il funzionamento immunologico bla 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 cioè l'elefante che praticamente non sembra abbia si è esposto a tumore cioè ci sono dati solidi sugli umani stiamo parlando della stessa specie quindi è molto difficile trovare dati incontrovertibili no? quindi su quello è bene cioè fare tanta ricerca prima di perché a volte l'evoluzionismo soprattutto da non esperti del settore quindi lasciamo stare chi passa le giornate a studia questa roba tipo appunto Mattei Bruni del giudice eccetera ma viene usato un po' così preta portè ecco alla carta mi dia un po' di evoluzionismo con le pagatine fritte lì dobbiamo stare attenti perché sennò si rischia di come dire di snaturare l'evoluzionismo che andò dentro nel nostro agone di marketing della psicoterapia c'era un terzo livello dicevi un terzo livello secondo me è sul proprio costruire ex psicoterapia che cerchino di essere totalmente coerenti il più possibile coerenti il più possibile coerenti proprio dalla formulazione iniziale alla realizzazione dell'intervento questo secondo me è un ambito almeno che è quello su cui sto provando a riflettere io che è il mio ambito di maggiore interesse in termini di ricerca applicazione clinica non con l'idea che quello che fa Simone è quello giusto ma se quello che stiamo facendo può avere un senso allora è esportabile cioè che davvero la condizione evoluzionistica può essere una condizione utile per una prospettiva integrativa sia tra approcci terapeutici sia da discipline diverse che parlano del sapiens appunto dalla neuroscienza alla psicologia clinica alla psicopatologia evoluzionistica ecco questo diciamo è la cosa che mi intriga maggiormente super interessante questo spero che avremo modo di tornarci su in altri frangenti Simone grazie mille grazie a te spero che ci sia magari un'altra occasione di riprendere più in dettaglio proprio questi ultimi volentieri ok un caro saluto grazie grazie a te grazie a te